La nuova Peugeot 2008 farà la sua prima apparizione pubblica in Italia agli internazionali BNL 2016 di tennis a Roma. Continua così il matrimonio tra Peugeot e il grande tennis internazionale iniziato in Francia nel 1982. Presentata all'86esimo Salone di Ginevra, Peugeot 2008 si propone ora con un design da subdeciso che esprime forza e seduzione. I nuovi allestimenti, trasversali alla gamma Peugeot, offrono un ambiente interno sportivo e chic, dai colori rosso e nero. La tinta della carrozzeria Rosso Ultimate, invece, ne esalta la forza. Grazie per la visione!